Ciao ragazzi, sono Giorgio Frustalupi, no, quello che faccio in falsetto, anche se in falsetto non è perché praticamente uso la testa come quando si canta, no, si fa le note alte, tutto quanto, e niente, oggi è un po' scuro il tempo, è per Carlo, Carlo io adesso mi sono messo avendo i celati, e c'è il carriolo con i celati, e Giorgio Frustalupi vende i celati, boglia di mano, veramente una cosa scandolosa, scandolosa, e solo sulla capa che c'è i tuoi clienti che mi sa che fanno i celati, c'è del Giorgio Frustalupi, quello che faccio in falsetto, anche se in falsetto non è perché uso la testa, come quando si canta, se fanno le note alte. Ciao belli!